Proseguono le consegne dei lavori per la ricostruzione del patrimonio Ather danneggiato dal terremoto del 2016. Segnali importanti per dare una risposta all'emergenza abitativa nata a seguito del sisma. Nella giornata di oggi i lavori sono stati avviati su una palazzina di sei appartamenti situata in via di Giuseppe nel comune di Basciano. Costo dell'intervento oltre 200.000 euro per una durata di 180 giorni. Abbiamo preso un impegno che era quello di accelerare e di rendere sempre più frequenti le aperture dei cantieri per la ricostruzione delle case popolari ed è quello che sta avvenendo. Oggi lo facciamo qui a Basciano, abbiamo già aperto altri cantieri nei mesi scorsi e altri cantieri apriremo nelle prossime settimane. Soprattutto entro la fine di marzo l'Ather avrà pressoché completato le progettazioni di tutti gli interventi che consentiranno poi di fare le gare anche per gli interventi più complessi. Questi hanno una soglia di costo che permette procedure semplificate, è il primo effetto di quelle semplificazioni che avevamo invocato per anni e che abbiamo ottenuto solo negli ultimi mesi e che cominciano a dare i suoi frutti. Oggi abbiamo appunto un altro cantiere, come diceva lei, qui a Basciano dove abbiamo tre proprietà, però oggi l'intervento viene avviato soltanto su un immobile, un immobile di sei unità abitative e un intervento per il quale era previsto inizialmente un finanziamento di 350 mila euro, però a seguito appunto dell'aggiudicazione viene affidato appunto a circa 210 mila euro di lavori. Si prevede la realizzazione appunto dell'opera di tutti i lavori entro 180 giorni, quindi a fine giugno dovremmo avere la restituzione dell'immobile sicuramente insomma ripristinato in tutta la sua integrità. Si prevede l'intervento anche sull'altra palazzina danneggiata, siamo ancora nella fase della progettazione, quindi non appena ci verrà rimesso faremo tutti gli atti successivi finalizzati all'affidamento dei lavori e quindi all'avvio. E' un intervento importante, iniziamo a ricostruire anche il patrimonio pubblico del comune, il ringraziamento va all'Ader, ecco oggi con la presenza della dottoressa Ceci, va alla regione e insomma tutti gli enti dell'ufficio speciale ricostruzione che si stanno adoperando per una ricostruzione che adesso vede effettivamente un'impronta nuova con maggiore velocità e per noi è importante, è un segno di rinascita importante per il territorio, tornare ad investire ricostruendo.